la mia sorellina nina e facciamo una gara stante di quelle nuove su gta online questo è il mio personaggio adesso si parte partiamo anno vinciamo ok stiamo per partire via dai 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 da maccio di botte perché se no lo ammazziamo di botte quello di dietro quello di dietro adesso dobbiamo ammazzarlo di botte via e adesso lo superiamo noi, così lo facciamo e se lo facciamo la tinge va, questo metodo sbaglio, quello lì sarà un merck, paura che c'era sempre dai dai, guarda siamo secondi al secondo tiro, dobbiamo farcelo superarla, no? si, perchè quello ha un po' c'è un bello po' dai, vai bello, vai vai, basta che sbaglia mezza volta eh, però lui ha un po' il cervello stotto il cervello stotto? si no, no, il cervello stotto come un altro si sta distaccando, si sta distaccando non aggiungiamo no, boh non si vede neanche... ah, è la ma c'è distaccato parecchio già eh, però poi è finito la storia la storia del burro gli altri indietro li abbiamo distaccati anche tanto quelli dietro di noi quelli dietro di noi li abbiamo distaccati parecchi Grazie. Se perdiamo, non iniziamo. Primo. L'abbiamo già passato. Non è finito. L'abbiamo già passato. Non so dove, ma l'abbiamo già passato. Siamo primi. Aspetta che tu sia un po' ciò. Sì, sì, siamo primi. Dai che siamo arrivati primi. Adesso stanno partendo. Eccoci a una seconda gara. E adesso devo fare i numeri della macchina sopra. Adesso partano. Sì. Sì. Siamo primi così. Gli altri si ammazzano. Non facciamo prendere la scia. Non facciamo prendere la scia. Vai, vai, vai. Che non dobbiamo sciare. Che non dobbiamo sciare. Che non dobbiamo sciare. Che non dobbiamo sciare. Così, va. Dai! Eh, allora, guarda che si sta provando. Ah, ma non hanno ho preso il checkpoint. Non hanno preso il checkpoint. Non è possibile che siamo facili. Siamo qui. Non hanno preso il checkpoint. Prima abbiamo unito anche adesso qua. Dai! Guarda che l'abbiamo distaccata un po' dai, lo giro sopra, mi vedi dietro a quelli, guarda, l'hai visti? No. Sì. Nooo. Eh, lo vedi, arriva? Sì. Stiamo facendo invidia. Quasi stiamo vincendo! Dobbiamo fare il punto del pezzo. Uno ha preso la strada sbagliata, invece noi abbiamo preso la strada giusta perché stiamo in quelli gialli, invece quelli lì sono quelli... Non hanno preso il check point? No, e sono quelli blu che... Um... Um... No, 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 no ehm... se sbagliamo per una volta ma un giro se non avessi abbiamo vinto pure questa dai Anna saluta tutti ciao ci vediamo nella prossima gara ci vediamo nella prossima gara intanto qua abbiamo vinto due gare di seguito primi e gli altri devono ancora superarci però noi non ci siamo ciao 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 ciao